Ciao Carlos e benvenuto. Grazie mille, buonasera. Quali sono le tue emozioni in questo momento e che cosa significa per te essere arrivato all'Inter? Molto molto felice, è una squadra grande, molto felice di giocare a San Siro anche, sono molto ansioso anche di aiutare i miei compagni e non c'è nulla da dire, voglio dimostrare in campo anche. Nella passata stagione sei stato una delle rivelazioni del campionato, hai segnato sei gol, hai anche servito cinque assist. Adesso che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Io sono ambizioso un po', lo so che ho fatto una grande stagione l'anno scorso e spero fare ancora meglio qua con i miei nuovi compagni e spero aumentare questi numeri di gol e assist. Alla prima giornata l'Inter affronterà subito il Monza che è la squadra che ti ha portato in Italia. Quanto senti di essere cresciuto dal momento del tuo arrivo? Al momento del mio arrivo qua in Italia è cresciuto tanto, però devo anche alle persone che mi hanno aiutato tanto e spero crescere ancora, ho le margine da crescere e spero aiutare anche i miei nuovi compagni. Corsa, tecnica e grande velocità sono solo alcune delle tue caratteristiche. Tu come ti descriveresti? Che tipo di giocatore sei? Un giocatore umile, io voglio lavorare per la squadra, sono un giocatore che, sono brasiliano, però mi piace correre tanto e è questo. Dentro il corpo voglio aiutare i miei compagni a fare belle partite. All'Inter ritroverai anche Davide Frattesi che è stato un tuo compagno nella tua prima stagione in Italia. Sì, vero, vero. Mi ha aiutato tanto anche lì e spero trovarlo e fare bene anche con lui anche qua. L'Inter ha una grande tradizione di calciatori brasiliani, qualcuno che è stato anche protagonista nel tuo ruolo. Ce n'è qualcuno che è stato un esempio per te che ti ha ispirato? Allora, quelli più conosciuti sappiamo Ronaldo, Adriano, però quello nel mio ruolo Roberto Carlos che ho guardato tanto lui come gioca e spero arrivare, non come lui perché lui è stato un fenomeno, però fare bene anche. Grazie a tutti.